mmmh qua mi sa che qualcuno è andato lungo porca puttana buongiorno anche se così non si può dire però oggi partiamo per una nuova avventura con i ragazzi dell'onda club abruzzo e adesso andiamo a raggiungerli al punto di ritrovo come già detto questa mattina il meteo non è dei migliori speriamo ovviamente di non prendere pioggia e che rimanga tutto così fermo e coperto vedremo anche se dovremo adentrarci in zone più montuose quindi speriamo che tenga così e che non ci faccia a disperare sono le sei e cinquanta del mattino appuntamento era per le sei e quarantacinque siamo con un leggero ritardo ma penso che non ci siano problemi come giorno com'è? a posto manca qualcuno? troppo ok ti ho visto passare davanti casa prrr o faccio benzina stiamo dicendo i ragazzi che hanno autonomia che non arrivano a 200 km quindi ok ok va bene da club eccolo 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 e poi andiamo l'autostrada direzione nord alla prossima a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, ma a me mi è arrivato quello là dell'altra volta. Quando siamo passati là a Cajanello? No, pure a me mi è arrivato. Subito. Sì. Abbiamo messo il piano in Avelli? Sì. La regazza dice che si sta là, c'è un parcheggio grande. Ok. Vediamo se quel ragazzo deve fare benzina. Esatto. Avevo pensato di fermarmi sulla piana, ma quale benzinaio non lo so. Bene, abbiamo appena lasciato l'autostrada, abbiamo tutto il gruppo alle spalle, si continua su strada statale, siamo a Popoli e adesso ci dirigiamo in direzione Piana di Navelli, L'Aquila e Antrodogo. Sì. 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 I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not working now, maybe it's the chemistry, it's time to break up, so I can make a better me. Porca puttana. No, va niente. Ma perché si buca, hai preso qualche fosso, qualcosa? Qua mi sa che qualcuno è andato lungo, porca puttana. E siamo all'Aquila Eh, qui purtroppo What you do these Bitcoin What you do this Bitcoin Aram E The Eye Ha Eh Tough Grazie a tutti 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 Lasciate un commento, un mi piace e se volete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ovviamente lunedì con un nuovo video e una nuova avventura, ciao!